Sì, poi devi trovare sempre la leva, l'appoggio, e sennò si vede che tu... E' che pesa un cattino, veramente, mi farò una muscolatura pazzesca. Poi il sinistro è meno forte del destra, perché il sinistro... Di là, di là, di là. Provala sulla coda, provala a fare il giochetto sulla coda. Se a volte basta, due due. Fai così? No, non c'è molta.